Tibie in padella, dolce veloce di Halloween! Stendete l'impasto della pizza. Dividete la sfoglia in rettangoli 20 cm x 5 cm. Tagliate a metà le caramelle mou. Mettete 4 pezzi di caramelle al centro di ogni rettangolo. Piegate la pasta dal lato corto, sia a destra che a sinistra. Ripiegate il bordo superiore della pasta sulle caramelle, inumiditelo e ripiegate anche il bordo inferiore. Chiudete bene, tagliate a metà le estremità e separatele. Fate lievitare mezz'ora e cuocete in padella calda 2 minuti per lato coperte. Spolverizzate di zucchero a velo e nappate con la nutella tiepida. Mmmmm, cremose! www.belliepronti.it Inquadra il QR code e vieni a trovarci sul blog! www.belliepronti.it Grazie a tutti.